E' Ottavio De Martinis il candidato sindaco del centrodestra al comune di Montesilvano, complici gli equilibri nazionali prima e territoriali poi, è l'esponente della Lega, attualmente vice sindaco della giunta Maragno, a correre per la coalizione. Più lusingato o più sorpreso da questa candidatura al sindaco di Montesilvano? Diciamo entrambi, ma se devo fare una scelta direi lusingato. Colgo l'occasione per ringraziare infinitamente il partito per avermi dato questa grande opportunità e per la fiducia accordatemi. Io nel momento in cui sarò sindaco di Montesilvano, qualora i cittadini mi accordassero la fiducia, ripartirei proprio dalle cose buone fatte durante questa amministrazione. Il perché non ci sia stata convergenza attorno al sindaco Maragno io penso che sia relativa, nella misura in cui io penso che quello che ha propeso di più per la mia candidatura è proprio una questione politica, cioè quella per la quale, avendo Forza Italia avuto la candidatura a Pescara, risultava quasi scontato che comunque Montesilvano avesse un sindaco leghista. Roma avrebbe, da come so, ha deciso su Pescara. Per il resto dell'Abruzzo si sta ragionando a livello locale e a livello regionale. Il sindaco Maragno forse potrebbe correre da solo con l'appoggio di liste civiche? Mi auguro che questa ipotesi venga scongiurata, sia scongiurata e mi auguro che si riesca a trovare un affare quadrato anche parlando con il sindaco Maragno e trovando una sorta di convergenza, se non ovviamente sulla sua candidatura, ma sui programmi e sul bene della nostra città.